andando al mercato e spulciando tra le bancarelle ho trovato questo paio di pantaloni in semi in pelle che le ho pagati 15 euro le ho già indossati e stanno molto bene è una linea che rimane attillata sono rimasta soddisfatta del mio acquisto sempre al mercato ho scovato questa maglia color boh non lo so tortora non so se si vede bene il colore è un po e non è un po particolare semplice ma particolare nel senso che viene giù un po larga e va messa con una cintura qua lo scollo e avvi è molto 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 calda e adatta al mio autunno un accessorio che non manca mai nel mio autunno e questo questo è un ciondolo che rappresenta il mondo c'è le stelle i pianeti e per me è un grosso porta fortuna lo indosso sempre specialmente in autunno un'altra cosa che amo molto e questa cintura questa cintura è parecchi anni che ce l'ho e in autunno è quella che va di più e di cuoio è fatta molto bene ed è spettacolare uso spesso questa sciarpa di questo colore senape anche questa è molto carina molto bella indossa indossata sta molto bene un'altra cosa che ho trovato al mercato e questa borsa con le due cerniere davanti la cerniera che rimane dietro spaziosa all'interno perché alla doppia tasca qui la doppia tasca qua è di pelle ed è tutta foderata e l'ho pagata solo 5 euro solo 5 euro ragazze giudizio i e i Grazie per la visione!